Parliamo del drama, o quantomeno di tutta la discussione che ne è nata con quello che è successo nel conflitto israeliano-palestinese che va a coinvolgere anche il Lucca Comics del 2023, che alla fine della fiera e tutto si riconduce al fatto che questa locandina, che vedete qua su schermo, è stata realizzata da alcune persone che appunto sono israeliane. Fin qua che male c'è, assolutamente nulla. Però dato che appunto si tratta di persone che sono nate in Israele, allora insomma i gestori di Lucca Comics hanno dovuto mettere il patrocinio dell'ambasciata di Israele che si può vedere appunto qua, anche se in piccolo. E questo ha causato un bel po' di discussioni in rete, perché alcuni artisti, tra i quali Zero Calcale, hanno deciso appunto di non prendere parte al Lucca Comics proprio perché i loro ideali non vanno ad abbracciare quelli di Israele. E giusto per fare un minimo di riassunto di questa cosa, anche se è piuttosto difficile perché andare a parlare di geopolitica non è mai facile, nonostante io sia una di quelle persone che si informa su queste cose, ti posso dire che questo conflitto c'è da ormai più di un secolo quasi. E praticamente al centro del conflitto c'è appunto il fatto che questo territorio che dovrebbe essere della Palestina dovrebbe essere praticamente diviso tra gli arabi e gli ebrei o quantomeno tra le persone che vogliono vivere nello stato della Palestina e quelli che vogliono vivere nello stato di Israele. Poi dovremmo citare anche il fatto che lo stato di Israele è stato appunto uno stato creato ad hoc dalle Nazioni Unite per cercare di praticamente risolvere questo conflitto tra queste persone appunto che vivono all'interno di questo territorio non ci sono riusciti per una miriade di motivi e quindi questo è uno di quei conflitti che continua ad andare avanti nel corso dei decenni. Ci hanno provato una marea di modi per farlo finire appunto prima creando questo stato di Israele che poi ha causato altri conflitti, poi la politica si è mossa in diversi modi ma se leggete le news, se vi informate gente dovreste sapere che nelle ultime settimane il conflitto si è inasprita ancora di più tra bombardamenti, uccisioni di persone, anche civili e tutto il resto. Ora io so che la gente avrà le sue opinioni, io rispetto fino a un certo punto le opinioni altrue io ti posso dire che fin tanto che posso cerco di fare appunto un po' di informazione a riguardo però ti posso dire la mia perché anche questo è il mio dovere se non ti dico la mia opinione non ha senso che ti parli di un qualcosa io ti dico che sono assolutamente per la Palestina sono però per quanto riguarda, se devo schierarmi ma è un pochino stupido schierarsi da una parte all'altra però ti dico che sono più vicino appunto alle persone che vogliono supportare la Palestina perché? Per il semplice fatto che lo stato di Israele è stato creato ad hoc cioè secondo alcune persone una cosa di questo tipo si sarebbe fatta prima o poi a prescindere però alla fine quello che doveva essere un conflitto per dare un pochino di stabilità appunto all'interno di quel territorio e delle persone che ci vivono all'interno alla fine è stato solamente un gioco politico cioè hanno creato uno stato ad hoc che è quello di Israele e praticamente che cosa è successo? Che dato che questo stato di Israele è stato bene o male supportato dall'Occidente quindi Stati Uniti d'America e quant'altro allora tutti vanno a sopportare appunto questo stato mentre invece quello della Palestina che poi tra l'altro nel corso degli anni all'interno della Palestina si è formato quel gruppo armato di Hamas è stato supportato dalle altre persone che non sono all'Occidente meglio altri Stati ovvero Russia e chissà cos'altro e qua tra l'altro bisogna fare un minimo di differenze tra lo stato della Palestina e Hamas che sono due cose completamente diverse che è molto difficile da capire per le persone che non si informano e quindi se vedete che nelle notizie qualcuno ti dice che Hamas ha attaccato determinate cose Hamas è una cosa che ok va a rappresentare per certi versi la Palestina perché fornisce degli aiuti appunto a questo stato e rappresenta alcune persone che vogliono lottare appunto per questa causa ma lottare, fare degli attacchi terroristici e tutto il resto o comunque uccidere, prendere degli ostaggi non è la soluzione migliore né tantomeno quello che fa Israel che appunto tramite l'aiuto degli stati dell'Occidente fa un pochino quello che gli pare ergo quello che manca a livello di informazione qua da dire è che appunto nessuno parla dei semplici civili appunto delle persone che abitano all'interno della Palestina che vengono attaccate di continuo e appunto questa cosa si perde un pochino nelle news quindi io ti ripeto sono più per appunto la Palestina solo che questa è una cosa molto difficile da accettare perché appunto le persone sono sempre per tifoserie cioè nel senso se tu sai che un determinato stato viene supportato da altri stati allora tutti vanno a supportare quest'ultimo giusto per dire qualche giorno fa avevamo fatto notizia che avevano fatto un voto all'interno delle Nazioni Unite per condannare l'uccisione di civili insomma tutte queste cose qui beh l'Italia non si era espressa all'interno di questo voto e quindi molte persone hanno condannato insomma la Meloni ha detto non si fa così non è giusto che alla fine ha senso però quello che molte persone non capiscono è che si tratta di politica se tu sai che sei all'interno di una coalizione di stati che ne supporta uno tu non puoi andare a dire guarda anche quelli hanno sbagliato non lo puoi fare nonostante sia corretto farlo però capito è tutta una questione di giochi politici e tutto il resto e questo drama appunto che riguarda il Luca Comics ovvero che c'è il patrocinio dell'ambasciata di Israele nonostante questo tecnicamente non significhi nulla nel senso che quando tu hai delle persone che fanno parte appunto di uno stato automaticamente arriva insomma l'ambasciata per supportare e tutto il resto e quindi vai a dire guarda abbiamo il patrocinio dell'ambasciata X per supportare queste artisti che non sono italiane intanto che appunto è una cosa di questo tipo non c'è alcun problema tra l'altro questo era stato annunciato mi pare a giugno quindi ancora prima dei vari eventi che sono accaduti appunto nelle ultime settimane però se poi vedi che insomma è successo tutto quello che è successo gli artisti almeno alcuni artisti prendono delle posizioni io credo che sia giusto non tanto dire ognuno alle sue opinioni perché non si tratta alla fine di opinioni si tratta di andare a dire quella che è la realtà dei fatti se tu hai uno stato che ne attacca uno e va ad attaccare i civili cioè permettimi non è una cosa che puoi giustificare né tanto meno come ho sentito dire ad alcune persone in rete non puoi andare semplicemente a dire eh sì ma è una fiera del fumetto insomma di videogiochi e tutto il resto teniamo fuori la politica no non funziona così gente non è che dobbiamo vivere all'interno di una cameretta e tutto il mondo esterno non conta più non funziona così anche in queste cose non ti dico che devono essere politiche o quantomeno che devono seguire alcune ideologie fatte da alcuni partiti politici e tutto il resto però appunto se vai a coinvolgere determinate cose ovviamente stai eseguendo una determinata linea e le persone possono essere d'accordo o meno con quello che vai a fare quindi nel momento stesso in cui tu vai a coinvolgere l'ambasciata di Israele vuoi perché sei costretto a farlo o comunque perché sei propenso nel dare spazio anche a questo potrei aspettarti tutto quello che è successo quindi andare a dire che i videogiochi non devono essere politici che le fiere non devono subire queste influenze da eventi esterni dico io gente fatevi un pochino di cultura perché non si vive così anche i videogiochi sono politici assolutamente sì alcuni dei più apprezzati in assoluto sono politici quindi andare a sminuire quello che viene detto o anche non dire la propria opinione al riguardo è una cosa assolutamente sbagliata e ti ripeto io non sono qui per giudicare chi supporta Israele magari alcune persone hanno le loro idee va benissimo tra l'altro non l'ho detto prima ma una delle soluzioni a questo conflitto dovrebbe essere appunto quello di mantenere questi due stati ma è una cosa alquanto irrealizzabile però appunto io ti dico la mia opinione puoi rispettarmi puoi essere d'accordo o in disaccordo va benissimo ok fin tanto che si riesce a parlare però appunto quando poi dobbiamo parlare di queste cose specifiche di questi eventi e tutto il resto non possiamo mettere tutto da parte la vita non funziona che appunto tu ti vai a rinchiudere in una stanzetta in un'onvoletta e poi tutto quello che accade fuori e sì chi se ne frega non funziona così quindi queste erano le mie opinioni al riguardo gente grazie a tutti grazie a tutti